Marciapiedi troppo dissestati e con tante buche e quanto hanno evidenziato alcuni cittadini che abbiamo intervistato questa settimana, una situazione che viene delineata in diverse zone della città. La stessa amministrazione parla dei lavori che andrà a effettuare nei prossimi mesi, non solo a riguardo dei marciapiedi ma anche su altre situazioni come le barriere architettoniche o sulle piste ciclabili. Sul giornale L'Azione che trovate in Edicola ci saranno le interviste agli stessi cittadini e all'assessore ai lavori pubblici.